I droni sono pronti, abbiamo di tutto, cinematici, abbiamo la corda di salvataggio, abbiamo i droni da freestyle, abbiamo altri droni da freestyle, abbiamo anche 7 pollici, AOS 7, questo lo consiglio a tutti perché ragazzi veramente questo è una bestia di drone. Insomma, qua c'è Peppe che è soddisfatti, relax e qua abbiamo Lorenzo che si sfrangherà fra 3, 2, 1, non si è sfrangato, incredibile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Stiamo uscendo quasi quasi indenni Quindi eccolo Eccolo che si è sfrangato Comunque stiamo uscendo indenni Perché il terreno ce lo permette Quindi insomma sta andando tutto a posto Oggi giù easy flick Poi cosa Split s inverted Matti flip E chi più ne ha più ne mette ragazzi Proprio chi più ne ha più ne metta I'm gonna kiss somebody Composite Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione